Oggi vi propongo la mia ricetta del pane integrale fatta in casa. Questa ricetta vi consenterà di ottenere un pane morbido e super super buono. 100% integrale, un lievitato da forno rustico squisito e ricco di fibre. Mi raccomando, se lo provate, lasciatemi un commento e fatemi sapere cosa ne pensate. 50 ml di acqua naturale, un cucchiaino di zucchero semolato e 5 g di lievito di birra fresco. Sciogliete bene il lievito e poi prendete una ciotola. Versate 500 g di farina integrale. Versate al centro il lievito che avete sciolto e poco per volta versate 300 ml di acqua naturale. Il procedimento richiede solo 20 minuti di preparazione. Per il resto, ovviamente, lieviterà in frigo per tutta la notte e poi 3 ore a temperatura ambiente, cioè all'interno di un forno spento con luce accesa. Quindi, ragazzi, si può dire che è un pane veloce, perché dobbiamo preparare solo il pane e poi tutto il resto lo fa, diciamo, il frigo e il forno. Quindi è un pane davvero super veloce. Come avete visto, ho versato anche 10 g di sale. Amalgamate benissimo il sale e impastate con le mani, come vedete, anche se risulta leggermente appiccicoso, il vostro composto è piacevole comunque al tatto. Una volta che avete amalgamato bene il sale, potete lavorare il vostro impasto su una spianatoia. Se è necessario, se il vostro impasto ve lo richiede, bagnate le mani con l'acqua e dovete piegare il vostro impasto su se stesso e poi dovete proprio arrotolare il vostro impasto, come vedete nel video. Prima lo piegate e poi lo arrotolate e realizzate una decina di pieghe. Una volta che avete lavorato benissimo il vostro impasto, prendete una ciotola, ungete la ciotola con l'olio extraveggio di oliva e versate l'impasto all'interno. Ricoprite con la pellicola e conservate in frigo nel ripiano più basso del vostro frigo e lo lasciate lì per tutta la notte. Io l'ho fatto lievitare per 12 ore. Trascorso questo tempo potete riprendere il vostro impasto dal frigo e quindi ragazzi dobbiamo realizzare semplicemente delle pieghe. Quindi che facciamo? Come vedete ancora qui nel video l'ho ricoperto con la pellicola e lo vado a mettere nel frigo. Quindi lo faccio lievitare 12 ore e ora qui sono passato ovviamente 12 ore. Riprendo la spianatoia, verso un po' di farina sul banco, utilizzo sempre farina integrale mi raccomando, e verso poi il nostro impasto. Un altro po' di farina sopra il nostro impasto, come vedete è pochissima farina. Adesso vado ad allargare delicatamente il mio impasto con le mani, come vedete così. Lo piego su se stesso e poi lo vado a rotolare. Ecco qui, lo piego nuovamente e poi vado a sigillare in questo modo. Questo procedimento mi raccomando ragazzi è fondamentale per ottenere un pane integrale morbidissimo e soprattutto bello gonfio. Ecco qui un'altra piega e vado a sigillare. Ecco qui ragazzi, come vedete il procedimento è super super facile. Una volta che ho realizzato queste pieghe vado a sigillare benissimo il mio pane integrale. Prendo una ciotola e metto un canovaccio pulito oppure un telo. Mi raccomando, infarinate bene il vostro telo e poi versate il vostro panetto all'interno. Infarinate anche la base del vostro panetto, deve essere bene infarinato sempre ragazzi, senza esagerare. Ecco qui. Adesso dovete fare due taglietti, quindi tagliate il pane a metà, magari realizzate una croce in questo modo. Ecco qui, come vedete il pane è leggermente profondo, il taglio leggermente ragazzi. Non dovete esagerare, proprio però ho tagliato un po' il pane, l'ho ricoperto con il canovaccio pulito e ho messo a lievitare dentro il forno spento con luce accesa per tre ore. Lo potete tenere anche quattro ore, fino a quattro ore va bene. Trascorse le tre ore di tempo possiamo riprendere il nostro impasto. Ragazzi, vi servirà un forno statico, mi raccomando. Quindi potete cominciare a accendere il vostro forno, perché deve essere il periodo di scaldato, a 250 gradi. Nel frattempo ovviamente prendete la teglia, mettete la carta forno, sempre un poco di farina sopra e sotto il vostro pane, e lo infornate, come vedete, con un'altra teglia alla base che contiene acqua. 250 gradi per circa 20 minuti. Dopo 20 minuti dovete togliere la teglia con l'acqua, mi raccomando, non vi dimenticate questo passaggio, perché è fondamentale. Abbassate la temperatura a circa 220 gradi e continuate la cottura per circa 15 minuti. Ragazzi, ogni forno funziona in modo diverso, quindi ragazzi, dopo 20 minuti, quando togliete la teglia e abbassate la temperatura, controllate la cottura. Alcuni forni richiedono anche 20 minuti di cottura, altri 15 minuti. Stiamo parlando sempre dopo i primi 20 minuti di cottura, quindi fate attenzione alla cottura del vostro pane. Ragazzi, guardate, semplicemente fantastico. Crosta croccante e l'interno super super morbido. Provatelo e non ve ne pentirete, diventerà il vostro pane integrale preferito. Grazie a tutti.